ciao allora benvenuti al video delle lo compro lo evito del mese di settembre partiamo subito con i 5 prodotti che ho provato e se li comprerò o li eviterò primo sicuramente che vi mostro è questo che mi hanno mandato della Collistar sono le capsule anticellulite con caffeina e scina della linea tv puri sono delle piccole capsule che sicuramente avete sentito parlare e di quelle capsuline e concentrato di caffeina e scina perfetta cellulite sono molto molto idratanti e vanno con un massaggio a dento aria combattere le stesime a cellulite questo era un campione ne avevo 7 capsule dentro e carina anche la scatolina sinceramente mi è piaciuto mi è piaciuto ho fatto il suo lavoro penso di averle già comprato un'altra volta a mie spese le ho comprate e tempo fa vi ho fatto la recensione queste me le hanno mandate e devo dire che le ricompro le ricompro sicuramente perché sono davvero valide molto molto valide altro prodotto vediamo un po' shampoo questo è un campione io ho fatto la recensione approfondita quindi vado veloce ed è un shower questo shampoo lisci e setosi allora cosa dire di questo shampoo è un buon shampoo da supermercato il profumo è spettacolare ha un profumo spettacolare questo e però tende a sporcare i capelli molto molto velocemente e quindi se lo dovessi comprare no non lo comprerei quindi della stessa marca questa e questo invece è quello classico per tutti i tipi di capelli questo è molto più valido come tipo di lavaggio quindi pulisce i capelli non li appesantisce li lascia morbidi e ok ma il profumo è molto più neutro quindi non saprei e direi che non li comprerei nessuno dei due alla fine perché se uno ha buon profumo ma l'altro fa l'azione non ne compro nessuno dei due altro prodotto anche questo era un campione questo della lascia è il dritto il punto riparatore di doppie punte della lascia che ho finito cosa dire non lo comprerei mai va bene fa il suo lavoro va bene a un inci spettacolare ma costa tantissimo c'è al fine un siro per le punte magari solo chi è è proprio appassionata di e usa solamente prodotti e dei vegetali ma per il resto mamma mia che prezzo che ha prodotti non proprio siliconici ma che costano molto meno ce ne sono tanti quindi no anche se devo dire che ha fatto davvero il suo lavoro non posso dire niente contro quindi davvero ha riparato le punte riparate no le ha riparate dalle aggressioni che potevano avere dopo se avevo già doppie punte e non le sistemava ecco per doppie punte si taglia e basta comunque no non lo comprerò perché cosa tantissimo non ha senso ultimo prodotto del mese eccolo qua anche questa è la mia taglia questa è del libro che la linea anti age global questo è il crema notte sapete che l'anti age global è una nuova linea è una linea è davvero che racchiude all'interno e tutte le azioni e per riparare la pelle per tutte le età valida valida molto valida questo era un 15 ml ha migliorato tantissimo perché è molto compatta si preleva poco prodotto ma contatto con la pelle diventa molto cremosa si assorbe subito e anche in estate non va a far sudare la pelle quindi alla mattina quando mi svegliavo non era un quindi davvero un ottimo prodotto questo lo comprerei sì sicuramente questo lo comprerei perché davvero è un prodotto validissimo quindi questi erano i 5 lo compro lo evito del mese di settembre fatemi sapere se avete pronto qualcuno e come ci ritrovate se vi è piaciuto il mio video mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video alla prossima ciao